questo è un Olivetti M20 ed ecco adesso a voi una delle cose che per anni ho cercato di ricordarmi mi ricordo che risale a quando avevo circa 15 anni posto accendiamo l'M20 test video il classico rombo bootstrap premo invio e non parto io però faccio un trucchetto guardate lo schermo signori SREG Olivetti M20 se fate una donazione al museo dell'informatica può darsi che vi dica qual è la combinazione di tassi ah 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 interessante, n'è vero?